Dopo quattro mesi è tornato in aula il Consiglio Comunale di Scafati, con una seduta fiume a porte chiuse e nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid, con i consiglieri comunali disposti a distanza di oltre un metro e mezzo e provvisti di mascherine. I lavori, iniziati nel pomeriggio di ieri, sospesi in serata e ripresi questa mattina, sono ancora in corso e saranno completati presumibilmente nella mattinata di domani. 13 gli argomenti all'ordine del giorno, sui quali maggioranza e opposizione si sono confrontati a lungo e non senza momenti di tensione. Nel rispetto delle previsioni della vigilia, già sul primo argomento all'apertura dell'assise, si è manifestato il dissenso del nuovo gruppo autonomo di maggioranza, nato da una costola di Fratelli d'Italia. La surroga del consigliere Sonia Ferrara, subentrata all'assessore Nunzia Di Lallo, passa ma con l'astenzione dei dissidenti Alfonso Di Massa, Anna Conte, Camilla Auricchio e Paolo Attianese, che esprimono quindi lo stesso voto dell'opposizione. Il vero braccio di ferro si apre sulla votazione del regolamento, che deve disciplinare i criteri di scelta degli amministratori nelle società partecipate del comune, un atto di indirizzo che mira a definire appunto criteri di merito e di competenza rispetto a quelle che restano in ogni caso decisioni di competenza del sindaco. L'argomento è in coda a quelli previsti, ma su proposta del consigliere Luca Maranca, viene anticipato per consentire la votazione nell'ambito dei lavori della prima giornata. E' Alfonso Di Massa ad anticipare il voto favorevole del gruppo dei dissidenti, a condizione che per ogni nomina si proceda comunque alla pubblicazione di un avviso pubblico. La proposta viene accolta favorevolmente dal collega della lista salvati sindaco, Nicola Cascone, il quale presenta una serie di emendamenti che vanno nella stessa direzione. Il testo, così emendato, riceve l'ok di tutta la maggioranza, che evita strappi e procede all'approvazione. Alla ripresa dei lavori questa mattina, la discussione sul regolamento per la nomina dei vertici delle società partecipate è proseguita per altre due ore. L'opposizione ha presentato una serie di emendamenti, tutti bocciati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha relazionato sui provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale durante la fase 1 dell'emergenza Covid. Resta da discutere la metà degli argomenti, che molto probabilmente saranno rinviati a domani mattina per la terza ed ultima fase dei lavori. Grazie. 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 Grazie.